Più energia a basso costo e rinnovabile, così da puntare all'autosufficienza senza gravare sui bilanci o ferire l'ambiente. Obiettivi, tutti centrali, da raggiungere anche tramite le CER, le comunità energetiche rinnovabili. Sul territorio pesarese alcune si sono già costituite. Ci sono delle buone iniziative, tra cui con il Macerata Fete, Monte Labate, insomma ci sono... Sta crescendo questa sensibilità degli antirocali, certo è che abbiamo bisogno di diffondere questa cultura della sostenibilità anche tra i cittadini, tra le imprese, perché questo ne va del senso di comunità stessa ma anche dell'autosufficienza energetica. In attesa dei decreti attuativi la richiesta è di evitare complessità burocratiche e favorire un percorso importante anche sul fronte economico produttivo. In Italia il settore manifatturiero rispetto agli occupati pesa il 20%, cioè un lavoratore su 5 è in manifattura. Nelle Marche questa percentuale sale al 30%, nella provincia di Pesolo al 36%. Quindi siamo un paese, una regione, un territorio energivoro. Necessario anche pensare più in grande e investire adeguatamente per avere risultati significativi. Gli industriali sono disponibili a sviluppare forti investimenti, ritengono che sia possibile in breve tempo, cioè nell'arco di, fino al 2030, riuscire ad investire circa per 60 gigawatt di potenza installata e la cosa non sarebbe male. In Italia negli ultimi tre anni sono nate 100 comunità energetiche, ora bisogna accelerare puntando sia sul pubblico che sul privato. È un imperativo per la sopravvivenza, per la crescita, per la competitività del nostro territorio puntare sulle energie rinnovabili.